Vuoi diventare più forte in breve tempo in squat, panca piana e stacco da terra? Oggi voglio presentarti il metodo Berserker. Ciao, sono Nicolas Rubini, sono Strength Coach e Personal Trainer. Mi occupo di powerlifting, di powerbuilding, di bodybuilding, di tutto ciò che riguarda l'allenamento con i pesi. Il mio scopo è quello di renderti più forte e per questo nasce il metodo Berserker. È un ciclo shock di sole 4 settimane ad altissima intensità ed alta frequenza allenante. Non è assolutamente adatta a principianti ed è una metodica frutto di esperimenti su me stesso e su diversi miei atleti che ha dato molti frutti a tutti quanti. Diversi miei atleti, ed io incluso grazie a questo metodo, hanno superato stalli che duravano mesi e mesi. Ma non è tutto così bello, il metodo è veramente molto tassante per il sistema nervoso centrale ed è difficile da riuscire a farlo per 4 settimane. Non a caso è una metodica di allenamento che puoi utilizzare soltanto una o due volte all'anno in quanto è un vero e proprio shock per il corpo. Lascio una piccola anteprima del video che alleggo assieme alla scheda che trovi ora online su nicolastrubini.it Allenatevi! Benvenuti al metodo Berserker. Oggi vediamo esattamente come funziona questa metodica di overreaching in peaking. Cosa significa overreaching? Overreaching è il momento in cui alziamo un pochino il livello su tutto, sia a livello di volume che a livello di intensità, oppure su uno dei due in maniera molto molto forte per ottenere poi una supercompensazione dopo il deload. In questo caso viene effettuato in peaking, quindi accomuniamo un'alta frequenza di allenamento ad un'alta intensità di allenamento ad un discreto volume allenante. Motivo per cui questo metodo non è una metodica che possiamo utilizzare con frequenza, è una metodica di shock, di strappo rispetto a quello che facciamo generalmente in palestra e consiglio il suo utilizzo innanzitutto non a principianti e soprattutto anche in intermedio o avanzati solo ed esclusivamente uno o due mesocicli al massimo nel corso di un anno intero. Quindi come puoi notare è una metodica parecchio parecchio stressante e scioccante per il corpo. Andiamo subito a vederla insieme. Innanzitutto che cos'è questo metodo Berserker? È un mesociclo ad alta frequenza e ad alta intensità, di quattro settimane soltanto. Il suo unico scopo è proprio quello dell'aumento della forza massimale. Diciamo che è un metodo nuovo, ma in fin dei conti non voglio dire di essermi inventato qualcosa di sana pianta. Nasce da vecchi principi. Sostanzialmente il metodo Berserker è un mix di tre metodi diversi che singolarmente ho saputo apprezzare molto e che mi ha fatto crescere molto nel corso della mia di carriera da atleta e sono il metodo bulgaro, ovviamente quello ne ho già parlato abbondantemente su YouTube, è un metodo molto stressante nel quale si ricerca un massimale giornaliero e veniva fatto nel weightlifting in Bulgaria negli anni Ottanta. La scuola sovietica, resa celebre in particolar modo da Sheikho, che è molto più tecnica, lavora molto di più sul volume allenante piuttosto che sull'intensità ed infatti non si utilizza un'intensità così elevata e così spesso nella scuola sovietica. Ed infine del metodo coniugato, reso celebre al mondo da Louis Simmons di Westside Barbell in particolare, nella quale si alterna spessissimo l'esercizio madre, l'esercizio principale e nella quale anche il complementare ed anche il lavoro di accessoriato, tra virgolette, ha un'ampia rilevanza. Quali sono però i due pilastri attorno ai quali si modula l'intero metodo? Il primo è il Daily Max, ed è quello principale, ad RPE 9, quindi a Rear 1. Il secondo è il Back Off a triple. Questo Back Off viene effettuato all'85% del Daily Max. Non temere, adesso vedremo tutto per bene. PHI Messi A tutti i tuoi più carini Grazie Grazie a tutti